Ciao bello a tutti ragazzi, qua siamo in Degs2MX ancora nella quinta e prima, scusate, quinta episodio e prima serie. Adesso aveva, io avevo, io avevo, sentito dei rumori nella nostra stanza da letto, quindi là intorno... Io salto un creeper! No! Ti chiudo fuori! Se fosse facile! E' scoppiato? No l'ho ucciso! Che culo! Quanta visualizzazione abbiamo avuto sull'altro? Non di pensare! Allora, se non mi sbaglio fuori è giorno! No? Intanto iniziamo a costruire la casa! Cosa è successo qua? Eh, sai, ho sentito dei rumori, ho cercato e che cosa c'era? Un creeper! No! Una bella grotta! Haha! Ok! Non uccidere quelle dentro al recinto che ci servono! Vado a far cadere quel maiale! Vabbè ormai! Sì! Fermo! Dov'era il buco? Eccola! Lascia questo buco! Vieni su! Oh! Credo che c'erano le opzioni del lost! Eh, sì! Tappa qui! No, no! Devi tappare là! Qua? No! Qua! Scusate! Ah, vi ho solamente due blocchi! Eh, così è più tappato! Ma no, scemo! Deve essere proprio tappato del tutto! Eh, non avevo altri blocchi! Allora! Ah! Guarda che lunghi si è collegata! Stiguitate è buono! Allora! Vedete un'ascia? Certo! Eccola qua! Vedete delle scale? Certo! Ma ne facciamo delle altre! Scusate! Ho parlato sbagliato! Sono pure dislessico, quindi! E andiamo a me! Sono più c'è due dislessici! Eh, eh, eh! Io ho un po' di più di te! Se non mi sbaglio! Wow! Giuste giuste le scale! No dai! Questa qua l'ho messa storta! Allora! Se qualcuno mi vienesse dare una mano! Potremmo iniziare a farci la casa! Vai a tagliare della legna! Vai! 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 Grazie! Grazie! Togliti! Sì! 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 Vai a prendere legna! No! Vado prima a mettere via qualcosa! No! Vai a mettere! Ok! Linee normale! Ovvio! Non di bircio! Sì! 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 In teoria è una quercia! Quella che sto spaccando io è una quercia! Quello che hai preso il legno dell'altra volta è di quercia! Di birce e la betulla! Oh! Hai del legno! Tutto! Ok! Ok! Ops! Te ne è caduto uno! Meglio che vai dentro! Perché? È notte! Cosa? Ci sono... Oggi staremo fuori all'esterno! Quindi dobbiamo andarci a preparare! Per combattere! Non faremo! Allora! Mi prendo... Un... Una spada! E un... 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 Un'ascia! un'ascia un attimo che metto un po di luce qua se non spavano altri mob questo dovrà metto la una mela io vedo le pecore mannare quella la sopra l'albero che sta piccolando alla luna non è una pecore mannare ma dai come fai a non sapere che non esistono a che cazzo vai sono caduto ho deciso tiro giusta birce solamente per bruciarla e fare arcar coil se non mi sbaglio c'ho quattro pezzi aiuto non fare esplodere creeper capito capito no no c c c c c c c mangiamo tutte le belle patatine c 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 perché siamo nati la c'è siamo abbiamo perché abbiamo dormito la forse aspetta ma sti scaletti li danno solamente ossa questa è la gravità di minecraft sempre molto real si infatti oh oh provo a uccidere uno scheletro ancora ossa ma neanche la freccia corri corri ma non verso casa scontro mortale zombie sto picchiando con un uomo to tieni la tua zappa dove ce l'ho data ho già visto uno zombie a me mi servono ragni non mi servono sti mob ragni del cazzo guarda se non riesco a trovarne uno in questa puntata nella prossima mi suicidio no dai ecco mi sono ammazzato di un uomo dovrei fare il record per di quante volte mi ammazzo oh neanche un ragno e è quasi finita la puntata mi dispiace ma per questa puntata è tutto e ci vediamo alla prossima prossima ciao